Viva Ferdinandoli! Prima abbiamo parlato di rispondere alle provocazioni che vi facevo e qualcuno di voi chiedeva se è nastrato che potevamo scagnarci, potevamo fare un po' così, quello che si voleva Patrizia ha detto che potevamo, un momento che i visi sarebbero usciti dalla nostra parte e in questo modo quindi non potete più entrarvi indietro, non venuti in questo passato che veniva in fondo, facciamoli insieme. Guido per cominciare la prossima, subito, come on! Grazie! 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.